e buonanotte per me ragazzi sono Cagre con il Sompressione e sono con i suoi video sempre su Football Manager anche quest'oggi siamo su Football Manager 2023 per dare via alla serie di tactic test su questo gioco finalmente ci siamo arrivati dopo tantissimo tempo il motivo per il quale tactic test arrivano sempre tardi all'interno del gioco è perché ci metto un casino di tempo a farli anche perché quello che vedete voi è il risultato finale ma dietro c'è un lavoro impressionante che richiede un sacco di tempo può non essere una scusa valida chiamiamola così perché ovviamente il tempo serve a chiunque però per come sono le situazioni attuali da diverso tempo per me trovare troppo tempo per fare i tactic test risulta impossibile quindi sto andando un po' rallentatore ma è l'unico modo poi per farli uscire in ogni caso il primo tactic test di F23 riguarda un 4231 fatto ovviamente con il Bayer Monaco ci saranno dei cambiamenti all'interno del video il primo cambiamento è che ho deciso di iniziare a testare i moduli con le squadre e hanno utilizzato i creatori di questi moduli quindi da qualche video in poi inizierete a vedere e i moduli che vi porterò saranno con le squadre che hanno utilizzato quelli che hanno postato il modulo all'interno della quindi non deciderò più io la squadra che per caratteristiche potrà far funzionare al meglio il modulo ma mi baserò su quello che ha portato la community questo per renderlo ancora più restrittivo inoltre ci saranno dei cambiamenti anche per come è strutturato nel senso che la base rimarrà quella però durerà un po' di più perché andrò un po' più nei dettagli nel farvi vedere le statistiche a proposito non voglio farvi perdere ulteriormente tempo la prima cosa che vediamo come sempre sono le statistiche dei calciatori il capocannoniere di questa stagione è stato Thomas Müller con 24 gol fatti per lui 48 presenze da titolare e una da subentrato 24 gol e 7 assist si è ottenuto il voto meno più alto è Leroy Sané con 7,40 per lui 46 presenze da titolare e una da subentrato 22 gol fatti e 14 assist Jamal Musiala è il calciatore con il maggior numero di assist ovvero 15 per lui 30 da titolare 13 da subentrato 7 gol e 15 assist il calciatore con la miglior percentuale di passaggi completati Emanuel Neuer con il 95 per cento è stato eletto più volte uomo partita Leroy Sané con 7 primi vinti Lucas Hernandez è stato ammonito più di ogni altro calciatore con 19 munizioni mentre Upamecano e Kimmich sono stati espulsi una volta a testa quest'anno prima di vedere il campionato andiamo a vedere tutte le competizioni in generale dove possiamo vedere che vinciamo il campionato vinciamo la Champions League in finale ai rigori contro Manchester City vinciamo la DF Pocal però perdiamo la DF Super Cup il campionato lo vinciamo di un punto facendo 80 punti superando il Lipsa che si è fermata a 79 vinciamo 24 partite su 34 ne pareggiamo 8 e ne perdiamo 2 siamo nettamente il miglior attacco con 106 gol fatti ma non siamo la miglior difesa perché subiamo 31 gol davvero siamo la squadra con la miglior differenza reti pari a 75 spicchiamo in diversi dati perché siamo la squadra con il maggior numero di punti a partita siamo la squadra con il maggior numero di gol segnati siamo la squadra con il maggior numero di tiri effettuati siamo la squadra con il maggior numero di contrasti aerei vinti pari a 66% siamo anche la miglior squadra per gol fatti a partita ovvero 3.12 distaccando di tantissimo il Red Bull Lipsia con 100.21 siamo la squadra con più expected goals a favore e anche con più expected goals non da rigore siamo la squadra con più rigori battuti con più cross riusciti con più occasioni create con più tiri a favore con più tiri in porta con la percentuale realizzativa migliore con più tiri a partita con più falli subiti a partita con più scatti ad alta intensità con il minor numero di reti subite da calcio d'angolo con il minor numero di passaggi tentati contro con il minor numero di passaggi completati contro con il minor numero di passaggi dell'avversario operazione difensiva e con il minor numero di passaggi nella tre quarti offensiva subiti per quanto riguarda i nostri giocatori possiamo vedere che Manuel Neuer è stato il giocatore che ha tenuto più volte una vittoria Sané è stato il giocatore con il voto medio più alto della stagione Sané è stato anche l'assistman del campionato Coman è stato quello che ha tenuto il maggior numero di assist nei 90 minuti Sané è stato quello che ha fatto più passaggi decisivi mentre Kimi che è stato quello che ha fatto più passaggi chiave in 90 minuti Sané è stato quello che ha tenuto il maggior numero di passaggi decisivi a palla attiva ed è anche quello che ha creato più occasioni Sané è anche quello che ha il maggior numero di expected assist e il maggior numero di occasioni create in 90 minuti Kimi invece è il calciatore con più gol da calcio piazzato nei 90 minuti e quello che ha fatto più cross completati nei 90 minuti Alfonso Davis è quello che ha fatto il maggior numero di scatti ad alta intensità nei 90 minuti Sané è stato quello che ha fatto più passaggi decisivi a palla attiva nei 90 minuti Kimi che è stato il calciatore con più passaggi progressivi nei 90 minuti Sané è stato quello con più expected assist a palla attiva nei 90 minuti Alfonso Davis è il calciatore con più cross tentati a palla attiva nei 90 minuti Mentre Lucas Hernandez è quello che ha completato più cross a palla attiva nei 90 minuti Arrivando alla tattica è un 4-2-3-1 già come avevo accennato prima In porta abbiamo un portiere libero con i compiti difensivi senza alcuna istruzione aggiuntiva I due laterali bassi sono due terzini con i compiti di attacco che hanno le stesse istruzioni ovvero tirare di meno e stare più larghi I due difensori sono due difensori che impostano con i compiti difensivi senza istruzioni aggiuntive I due mediani sono un regista retratto con i compiti di supporto che ha come istruzione aggiuntiva quali di dribbare di meno E una mezzala con i compiti di supporto che deve tirare di meno e dribbare di meno I due laterali alti sono doppio attaccante esterno con i compiti di supporto che giocano entrambi più stretti Il trequartista è un centrocampista offensivo con i compiti di attacco che deve dribbare di meno tirare di meno e può muoversi dove vuole La punta è un centravanti che ha come unica istruzione quale di tirare di più Come mentalità abbiamo positiva In fase di possesso abbiamo un'ampiezza d'attacco abbastanza larga Si parte pala tra la difesa cercando le sovrapposizioni sulle fasce Si gioca la pala negli spazi Lo stile dei passaggi è poco più corti con un ritmo di gioco leggermente più alto Nel trequartista si fanno crossbassi portando il palo in area di rigore Si affronta la difesa pala al piede lasciando più creatività ai calciatori In fase di transizione abbiamo fare pressing a tutto campo e contropiede Il portiere la smista ai centrali e ai terzini calciando la corta In fase di non possesso abbiamo una linea difensiva più alta con una linea di pressing alta Si fa pressing estremo, si impediscono i passaggi corri del portiere, si fanno contrasti aggressivi e si contrastano i cross Come analisi della tattica possiamo vedere che lati positivi sono tiri da lontano degli avversari Zone da cui sono scaturite le reti segnate, area di porta Retti da tiri dalla distanza, attacchi avversari nella trequarti alla sinistra Palloni recuperati e attacchi nella trequarti offensiva centrali Lati negativi sono zone da cui sono scaturite le reti subite, area di rigore e centro Percentuale di passaggi decisivi degli avversari Palloni persi, attacchi avversari nella trequarti centrale e scarsa influenza Lightmap è la seguente, possiamo vedere che il portiere rimane basso La linea difensiva non è altissima, abbiamo comunque il doppio difensore centrale che sta perfettamente in linea Il terzino di sinistra un po' più in avanti rispetto a quello di destra Il registro retrato ovviamente rimane più basso rispetto alla mezzala Il centrocampista rimane leggermente basso Però rimane in linea con l'attaccante esterno di destra Mentre l'attaccante esterno di sinistra si è già mosso in avanti Segno quindi che stavamo attaccando sull'out di sinistra Visto anche la posizione del terzino Il centroavanti non è molto distante Siamo una squadra che non sta altissima Nemmeno con gli attaccanti Però è molto compatta perché stiamo uniti con i reparti in pochissimi metri Un'altra novità di quest'anno è la disposizione vista in 2D quando si ha la palla e quando non la si ha Quando il portatore è nostro Quindi in questo caso la palla c'è l'Alfonso Davis Ci schieriamo con un 4-2-3-1 e si vede perfettamente Dove cerchiamo di allungarli al massimo portandoli sulla linea del centrocampo In fase di non possesso invece tocchiamo quasi la circonferenza del cerchio di centrocampo con il difensore centrale Ci mettiamo con un 4-4-2 non perfettamente in linea Un'altra novità di quest'anno è il centro dati dove possiamo vedere che abbiamo Gol fatti a partita 3.12 Expected goals a partita 2.95 Gol subiti a partita 0.91 Expected goals subiti a partita 0.89 Tiri a partita 10.26 Tiri in porta in percentuale 42.96 Passaggi completati in percentuale 85.76 I contrasti vinti in percentuale 73.19 Dove andiamo a fare la differenza sono I gol fatti a partita Gli expected goals a partita I gol subiti a partita Gli expected goals subiti a partita E i tiri a partita Arrivando al calendario possiamo vedere che a luglio Perdiamo la DFL Super Cup ma vinciamo il primo turno di DFL Beppokal Ad agosto abbiamo tutte le vittorie tranne un pareggio in Bundeskontro Wolfsburg A settembre abbiamo 3 vittorie e 2 sconfitte Ad ottobre abbiamo tutte le vittorie tranne un pareggio in Bundeskontro Wolfsburg e una sconfitta in Champions A novembre abbiamo tutte le vittorie tranne un pareggio in Bundeskontro Wolfsburg A gennaio abbiamo tutte le vittorie A febbraio abbiamo tutte le vittorie tranne un pareggio in Bundeskontro Wolfsburg e una sconfitta in Champions a marzo abbiamo tutte vittorie tranne un pareggio in bundes, ad aprile abbiamo tutte vittorie tranne due pareggi in bundes, a maggio abbiamo quattro vittorie, due pareggi e una sconfitta, a giugno abbiamo tutte vittorie. Il cammino in DFB Pokal parte al primo turno dove vinciamo per 3-0 contro Sonnenhof Groschersbach. Al secondo turno battiamo per 4-1 Greutherford, al terzo turno superiamo il Bayern Leverkusen per 3-1. Ai quarti di finale passiamo il turno per 1-2-0 contro il Borussia, in semifinale battiamo i tempi supplementari 4-2 il Friburgo, mentre in finale battiamo per 1-0 lo Stoccarda. La Champions invece parte nel girone A con Inter, Marsiglia e Siviglia, passiamo come test di serie con 12 punti vincendo 4 parite e per le 1 e 2, 12 gol fatti e 7 subiti. Agli ottavi di finale battiamo per 4-3 complessivo il Tottenham, ai quarti di finale superiamo per un 3-0 complessivo il Barcellona, in semifinale battiamo per un 7-4 complessivo il Milan, in finale battiamo ai rigori il Manchester City. La prima partita che possiamo andare a vedere è il 4-3 rifilato al Friburgo, passiamo subito in vantaggio noi recuperando palla in avanti, poi Sanesi libera molto bene tutti i difensori e trova il gol sul palo più lontano. Il secondo gol nostro arriva sempre nel primo tempo con Ciupo Motting che allarga Lucas Hernandez, la mette in mezzo e Ciupo Motting conclude l'azione che ha iniziato. Terzo gol nostro sempre nel primo tempo, Coman cambia tutta, Sané di testa, sovrasta a Günther e va a segnare così. Il Friburgo trova il primo gol della partita con Young che supera bene tutta la difesa nostra e poi calcia e segna. Il secondo gol del Friburgo arriva da palla in attiva con Petersen che la mette in mezzo, Hernandez non l'allontana benissimo e quindi Petersen calcia dalla distanza e trova un grandissimo gol. Musiala va a calciare tiro ribattuto, Masrawi la mette in mezzo e Müller è fortunato nel rimpallo all'interno della raga di gole. L'ultimo gol del Friburgo arriva con Grifo che dalla faccia di sinistra mette in mezzo, Petersen lasciato completamente il gol, trova il gol sul palo più lontano. L'ultima partita che andiamo a vedere è il 3 a 3 contro il Borussia Dortmund in Bundes. Al sesto minuto passa già in vantaggio il Borussia da palla in attiva con la respinta che non è neancora decisiva e quindi Hummers dalla distanza calcia. Due minuti più tardi trova il gol del raddoppio il Borussia con Bellingham che imbuca Deyemi e supera così Manuel Neuer. Noi proviamo la reazione con Müller che la mette in mezzo, Sané stacca molto bene i testa e trova un ottimo gol. Noi troviamo il gol del pareggio con Sané che la cambia tutta, Coman la mette in mezzo, Cikupo Motting finalizza molto bene all'interno dell'area di rigore. Torna in vantaggio il Borussia nel secondo tempo con Reina lanciato in profondità, cross in mezzo Adeyemi trova il tapin vincente. Il gol nostro arriva nei minuti di recupero con Sané che lancia perfettamente Sadio Mané che sfrutta la sua velocità e supera così il portiere avversario. Quindi questo era il 4-2-3-1 Pro Bowl. Io spero che il video vi sia piaciuto, se è stato così lasciate un bel like, commentate e condividete. Noi ci vediamo nel prossimo video, non mette lei e bella rega. Ciao! 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 Ciao!